Siamo in Navarra, sono circa 30 persone e si basano sulla sociocrazia. Anche, anche. Siamo co-vivienda, viviamo tutti in un edificio, non è ecologico ancora, vogliamo trasformarlo con molti anni, perché è molto lavoro, e utilizziamo le strumenti come la facilitazione e le strumenti per la convivencia. Quindi vivono in un edificio molto grande, sono circa 80 appartamenti, cercano di trasformarlo in un edificio più ecologico. Quindi vivono in un edificio. Grazie. Grazie. Grazie.